Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Gioco a Gioco a Minecraft, episodio numero 9. Nell'episodio precedente mi sono spinto ancora di più all'interno di questo posto e posso confermare che ho ricavato un bel po' di risorse. Per l'appunto ora vorrei far ritorno a casa e fare un riepilogo del ricavato. Allora, volevo finire di visitare questo pezzetto perché non ci sono ancora andato. Ho la pala? Sì. Uh, dell'oro, non l'avevo visto. Allora, volevo finire. Allora, volevo finire. Allora, volevo finire. Bene, direi che ora è tutto in ordine e ho cotto quasi tutto, qua posso far andare e mi faccio una bella armatura, allora mi manca l'elmo e poi mi mancano gli stivali, me li faccio e le braghette mi stanno per finire quindi me ne faccio un paio di scorta. Ok, così queste le conservo, allora visto che ho finito quasi la carne e vorrei andare a farmi un po' di pane, mi serviranno degli altri semi, vado a recuperare dei semi, nel frattempo mi faccio anche una bella zappa. Allora, vado a recuperare dei semi da queste parti, tanto c'è parecchia erba, c'è parecchia erba e dovrei recuperarne un bel po'. Uh, spavento. Allora, ok. Almeno mi faccio un orto e inizio a coltivare un po' di grano, perchè le risorse stanno per finire. E qua intorno, per adesso, ci sono solo pecore, non è che mi posso mangiare pecore. Sarebbe utile trovare anche, magari più avanti, un villaggio di vilici. Andargli a rubare un po' di risorse. Ah, la c'è dalla canna del zucchero, poi mi servirà. Ok, direi che, boh, per adesso, per adesso è sufficiente. Mi preparo la roba per costruirmi l'orto. Faccio una roba proprio piccolina. Ci arriva l'acqua, giusto? Sì. Benissimo. Ok. Bene, sto completando il mio articello. E metterò delle luci. Tu vai via, perchè... Non salire sopra, non salire sopra. Ecco. Perchè si mettono i recinti? Per questo motivo. Ma io non ne metterò. E... Mi piace così. I semi ce l'ho qua. Ok. Ho anche recuperato una carota, non mi ricordo quando, ma pensavo di piantarla. Ok. Ho della farina di ossa, la recupero subito. Perchè ho chiuso la porta, non lo so, perchè tanto dovevo uscire di nuovo. Ah, ce l'avevo nell'inventario. Che scemo. Ehm... Pa 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 pa. Ok. Qua. 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 Grazie a tutti Rieccomi in casa Ho ucciso moltissimi mob Perché mi serviva della farina d'ossa Per poter completare la coltivazione del grano Così mi farò un po' di pane per la scorta E ho fatto anche un arco perché ho ucciso dei ragni La prossima volta ragguperò tutto l'inventario Tutti gli oggetti che ho preso e che mi serviranno Per potermi trasferire in un altro luogo E costruire una casa più grande Per questa volta non ti faccio entrare Questa volta non ti faccio entrare Vi saluto a tutti Ciao, alla prossima